Benvenuti ragazzi, ci troviamo un'altra volta dentro al casino con alle spalle la ruota della fortuna perché abbiamo un nuovo veicolo sulla piattaforma roteante e sto parlando della Maxwell Vagrant da 1.660.000 dollari un veicolo non proprio a basso costo quindi se volete vincerla tanta roba perché costa una fucilata nuova ma noi non siamo qui per questo mezzo ma bensì dobbiamo recarci su Legendary Motorsport perché oltre la Progen PR4 messa ora in vendita a 3.500.000 quindi tutti quelli che non l'hanno vinta la scorsa settimana adesso veramente è un bagno di sangue adesso c'è la Ocelot R88 da 3.115.000 dollari è veramente un'auto spettacolare abbiamo già delle differenze sostanziali che si vedono a vista come il muso fatto un po' a missile abbiamo questi convogliatori d'aria per i freni anteriori per i freni posteriori abbiamo qui mi pare anche tipo la gabbietta di sicurezza per non rotolare e schiacciarci che sull'altra auto c'era o non c'era ragazzi sapete che sì era così c'era il pezzo d'aria dentro questa qui è un po' più old school un po' più vecchiotta anche qui però c'erano sì questi per le prese dei freni anteriori sì per i posteriori mi pare fossero qua qua un po' più nascosti adesso invece ce li abbiamo qua sopra comunque possiamo già vedere le differenze sostanziali io questo mezzo l'ho già comprato ed eccolo qui ragazzi guardate che spettacolo qualcuno di voi dirà ma bistar ma è veramente potente come auto ma come mai perché ragazzi avevo già registrato tutto il video poi come già successo in uno scorso video che poi dovrete vedere il computer mi è esploso e ho perso tutto quanto il salvataggio quindi riperoni ragazzi ho già modificato la macchina si può chiaramente salire davanti vedete vi faccio sentire subito il sound bellino molto bellino credo che sia uguale alla pr4 questa volta come scritta sulle gomme ci ho voluto mettere questa gialla perché riflette appieno il mio stato d'animo per aver perso tutta quanta la registrazione comunque noi non ci perdiamo d'animo ragazzi ve la riporto allo santos custom e vi faccio vedere tutte le modifiche perché non penso ci siano moltissime persone folli da spendere 3 milioni 115 mila dollari più tutte le modifiche ragazzi quindi è un bagno di sangue impressionante sinceramente le differenze tra le due così non saprei cosa dirvi credo che questa qua vada un pelino più veloce come velocità e meno in grip mentre quell'altra la pr4 ha molto più grip ed è un pelino più lenta adesso ci recchiamo qua perché ci sono veramente delle differenze sostanziali veramente grosse ovvero la ocelot r88 ruote scoperte l'armatura la carrozzeria ragazzi le riprende in pratica queste cose qui con la presa d'aria così con le due presette d'aria colà questa qua che chiude tutto quanto poi con soltanto la presa d'aria sinistra come potete vedere e poi con le presette là ma tutto chiuso io chiaramente ci ho voluto tenere questo qua tutto quanto aperto i freni sempre super paraurti anteriore abbiamo vedete questo è l'originale che sembra il posteriore di un aereo messo all'incontrario avete presente l'aereo di linea è identico il coso dietro qua ce l'abbiamo davanti poi senza nulla e mi piacerebbe sapere da voi raga se cambia effettivamente qualcosa mettendo uno così mettendo uno più grosso cosa cambia se si vede veramente tanto la differenza o meno motore come al solito livello 4 la livrea ragazzi cambia tantissimo perché ero indeciso se mettere questa Redwood che a me piaceva un sacco senza nulla abbiamo la Harrov abbiamo questa qui abbiamo questa qua nera che è top 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 anche così ragazzi magari mettere tutte quante le altre scritte e linee al posto che bianche e metterle gialle perché il mio colore principale è bianco e quindi per questo le vedete bianche sono nera così tutta gialla è top poi abbiamo questa qua questa così questa colà io ho voluto farmi questa e basta perché secondo me è una macchina da Formula 1 è bella sgargiante così poi abbiamo verniciature come vi dicevo prima i tettucci sono questi qua ragazzi vedete questo è lo standard che è in cromato questo qui è un attimino medio questo è ancora più lungo vedete si alza tutto quanto il pezzo sopra io invece ci ho voluto mettere questa bianca molto pulita classica poi abbiamo gli spoiler i classici spoiler questo qui ragazzi a me piacerebbe tantissimo tenere questo qua se no poi ci sono tutti questi qui strani vedete che non sono niente male io ci ho messo questo qua esagerato però devo dirvi ragazzi che questo qua pulito classico ha veramente il suo perché ditemi chiaramente cosa preferite anche voi poi abbiamo la classica trasmissione super il turbo personalizzato in sconto le ruote qui raga potete mettervi tutti i cerchioni che volete con soltanto il bordino e l'interno grigio oppure tutti gialli o con il bordino vedete nuovamente così uno sceglie quello che preferisce il colore anche se lo sceglie come vuole io chiaramente avendo tutti i particolari gialli ci stava un botto il colore giallo anche all'interno tutto completo il design potete mettervi quello che volete se c'era il fucaru giallo mi sarei messo il fucaru ma questa qua riprende proprio pronto cosa stavamo dicendo ragazzi non mi ricordo comunque ho messo queste gomme qua queste scritte sui pneumatici il fumo modifiche qui gomme antiproiettile il fumo giallo e come vedete non ci sono né scarichi né il pezzettino davanti il cupolino che sull'altra auto c'era un po' meno modifiche rispetto a quell'altra anche qua dietro in quella vecchia cioè in quella della scorsa settimana qua cambiava un po' tutto però dai un veicolo 3 milioni e passa raga chi ha i soldi chiaramente se vuole fare sta follia la può fare gli altri raga non lo so ditemi poi qualcuno che ha trovato magari qualcosa in cosa si differenziano queste due come vi ho detto prima secondo me questa va più veloce e tiene di meno quell'altra tiene di più e va un pelino di meno come vedete questa anche non sgomma così tanto come l'altra si questa raga si vede e si sente immediatamente che va di più rispetto all'altra guardate non perde così tanto si si secondo me la mia teoria è quella giusta vediamo qua se andiamo a cannone si cavacca va bene vabbè la macchina si può vedere anche così ragazzi a sto punto allora togliamo anche il musetto davanti e siamo a posto il musetto davanti in sta macchina non si toglie in quella vecchia raga invece subito non dirmi che mi sono incastrato vabbè se io scendo giù a cannone salgo dai 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 top ma che cavolo di auto se avessi avuto un'altra auto sarei rimasto là i decenni raga il musetto comunque è invincibile questa macchina è top è veramente top non so che dirvi raga questo qui è il nuovo mezzo che caspita è successo lì mi sa chi è posseduta questa auto qui questa formula 1 qui PR88 come caspita si chiama Ocelot R88 molto bene ragazzi direi che il video si può concludere qua spero vi sia piaciuto è stato un po' così raga perché il pc mi ha abbandonato spero che non esploda nuovamente che riperda tutto quanto like commento seguitemi su instagram seguitemi anche su twitch dove faccio tutte quante le dirette ci vediamo anche stasera alle 8 forse anche pomeriggio vediamo un attimino come come va la situation quindi raga buona giornata a tutti quanti la macchina è super ultra alleggerita così io vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento come al solito raga nel prossimo video